Pitta aperta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ma dai, oh zio, macchina! Bravo, questo è un bel parlato! Dai, 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 Piero! Ah, stanno proprio, guarda, mi sono cappottato 2.000 volte! Eh, l'osso, l'osso, l'avano iniziato! 2 minuti e venti di gara, abbiamo a comando Tassoni, Ruggeri, Menuti, Ragni, Di Battista, Tomaiuolo, Pignataro, Vegni, Cirella, Leonci, Vigilante, Fucito e Montano! Cazzo! Scusami! MACHINA! Oh Dio! MACHINA AL CENTRO! SORTTA, 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 MACHINA! no oh 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti